USI DELLA PREPOSIZIONE A PREPOSIZIONE DI MOVIMENTO Andare a un luogo Stasera vado al cinema con i miei amici. Anche con i nomi di città. Sono andato a Milano due mesi fa. PREPOSIZIONE DI TEMPO Mangio sempre a quest'ora, alle tre. PREPOSIZIONE DI STATTO Si usano con alcuni nomi di uso fattitivo, come casa, scuola, ospedale, porto, bar, stadio. Oggi rimango a casa con i miei genitori. COMPLEMENTO DI TERMINE L'azione incide su un'altra persona. Ho fatto un regalo alla mia ragazza Per indicare che un oggetto funziona in una certa maniera. La pia economica è una stufa a gas. Per indicare un sapore o un condimento. Per me il migliore gelato è il gelato al limone. Modo di realizzare azioni in certi verbi come andare a parlare. Alla scuola vado a piedi, ma quando sono dentro parlo a voce bassa. Nelle espressioni temporali con i mesi dell'anno possiamo utilizzare IN o A. A settembre vado in vacanza. Edda La Pediatri Edda Rad Edda Grazie a tutti.